Rosolini scovato uno spaccio di sostanze stupefacenti presso le case popolari e arrestato un pusher. Continua incessante l'attività dei finanziari del Comando Provinciale di Siracusa volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione e spaccio del Comune di Rosolini. Le operazioni eseguite dalle finanziari della Compagnia di Noto, guidate dal Capitano Maria Grazia Ponziano, rientrano nell'ambito dell'ordinario controllo economico del territorio disposto dal Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Lucio Vaccaro. Nelle vicinanze della zona popolare di Rosolini, la pattuglia operante notava un cittadino di origine extracomunitaria che, con fare sospetto, usciva dalla propria abitazione. Le fiamme gialle, pertanto, hanno seguito il soggetto che, dopo qualche minuto, si incontrava con un'altra persona a cui cedeva un involucro di carta stagnola per poi dileguarsi. Per questo motivo si procedeva al controllo del soggetto a cui era stato ceduto l'involucro e i militari sequestravano circa due grammi di ascici. Ritenendo che nell'abitazione dalla quale era stato visto uscire il soggetto potesse essere stata nascosta ulteriore sostanza stupefacente, le operazioni di polizia sono state estese all'intero appartamento dove le fiamme gialle hanno rinvenuto oltre a 150 grammi di ascici, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, a seguito di quanto rinvenuto il soggetto già prediliegato è stato arrestato. Gli uomini delle fiamme gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del pusher. L'operazione di servizio testimonia l'impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto allo spazio di sostanze stupefacenti a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dei più giovani in particolare.